Non ha fatto in tempo ad attraversare i binari, così il conducente di un autocarro ha abbattuto la prima sbarra del passaggio livello sulla circonvalazione di Alepiceno di Manduria e in seguito anche l'altra per mettersi in salvo. Paura nella serata di ieri nella città messapica, ma fortunatamente nessun ferito, solo tanto spavento e disagio causato dall'imbottigliamento di numerose auto in attesa che l'incidente venisse segnalato. L'intervento della polizia locale al comando del dirigente Umberto Manelli è stato infatti tempestivo. Il traffico è stato smistato in un paio d'ore e il conducente del furgone è sanzionato. Sul posto per riparare il danno sono intervenuti anche le squadre di pronto intervento della ferrovia sud-est che si trovavano di passaggio dopo un altro incidente avvenuto a Nardò, nelle Cese.